ben tornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti io sono elisa true crime e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata vi ricordo che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare di fondere consapevolezza ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie il caso di oggi amici sono certa che lo conosciate tutti è un caso molto famoso italiano che da sempre ha scosso il nostro paese per vari motivi è un caso che avete trovato nel mio primo libro se lo avete letto ma più recentemente sicuramente lo avrete ascoltato narrato da pablo trincia nel suo podcast dove nessuno guarda e se state guardando questo video cercando informazioni in più rispetto al suo podcast sappiate che non le troverete anzi alcune informazioni sono state prese proprio da lì perché in generale amici alcune informazioni esistono solo lì nel suo podcast oggi amici vi racconto la storia di elisa claps prima di cominciare però fatemi ringraziare lo sponsor del video di oggi good morning italia sono sicura che anche a voi come a me piaccia informarvi ogni giorno su cosa succede nel mondo ma che chiaramente vogliate farlo attraverso informazioni affidabili reali verificate con good morning italia ogni mattina vi potrete svegliare con il loro briefing una rassegna stampa con tutte le informazioni essenziali e verificate un concentrato di notizie selezionate e curate ogni giorno dalla loro redazione di giornalisti così da non perdere mai i fatti più importanti del momento senza clickbait o rumori di contorno io lo dico sempre ormai lo sapete penso davvero che la consapevolezza sia potere di conseguenza i cittadini informati possono davvero rendere il mondo migliore le notizie sono ovunque il problema però è la capacità di valutarle e il tempo per approfondirle certo sono cose che potete fare da soli volendo ma una redazione di professionisti può aiutarvi a farlo meglio facendovi oltretutto risparmiare molto tempo provate good morning italia facendo una prova gratuita di sette giorni ultimata la prova poi potrete scegliere tra un abbonamento mensile uno annuale oppure uno a vita utilizzando il mio link che troverete nell'info box del video e ottenete anche il 30 per cento di sconto sul piano annuale con il mio codice promo elisa 30 e se avete un'azienda potete consultare anche i loro piani business o corporate per servizi ad hoc a grande imprese trovate tutto nella descrizione del video come sempre prego non c'è di che e ora amici torniamo alla storia di oggi tra l'altro vi devo dire che il caso di oggi verrà diviso in due parti perché per raccontarvi la storia di elisa devo necessariamente raccontarvi anche di danilo restivo purtroppo e per farlo e per capire certe dinamiche dobbiamo tornare indietro dobbiamo spostarci all'estero questa è una storia veramente lunga e complessa e non posso fisicamente riuscire a metterla tutta in un video solo più che altro in una sola settimana mi ci vuole necessariamente più tempo quindi piuttosto che lasciarvi per una settimana senza video ho deciso di dividerlo a metà così oggi esce la prima parte e il lunedì lunedì prossimo uscirà la seconda abbiate pazienza amici ma come sapete queste storie non mi appartengono quindi non mi va di metterci troppa fretta nelle ricerche perché rischierei di non raccontarle come meritano comunque amici iniziamo elisa claps nasce il 21 gennaio 1977 a potenza da filomena lemma impiegata del tesoro e antonio claps guardia notturna e tabaccaio due grandi lavoratori elisa è la terza figlia dopo i suoi fratelli gildo e luciano e la sua è una famiglia molto credente e praticante ogni domenica sono in chiesa per la messa elisa viene descritta da tutti come una ragazza molto buona e generosa molto dolce che vede sempre il bene negli altri e per questo potremmo dire forse che sia un po ingenua elisa secondo chi la conosce giustifica sempre gli altri è molto compassionevole e questo suo aspetto del carattere come vedremo più avanti sarà molto importante nella sua storia elisa studia al liceo classico di potenza e sogna di studiare medicina all'università per poter partire in africa con i medici senza frontiere come già detto elisa è una persona buona altruista vuole fare tutto quello che può per il prossimo è premurosa soprattutto con le persone che sono più sfortunate di lei elisa inoltre ama leggere soprattutto i libri fantasy passione che le viene passata da suo fratello maggiore gildo che la fa appassionare per esempio ai romanzi del signore degli anelli elisa è molto legata alla sua famiglia ma in particolare è molto legata al padre antonio a cui racconta praticamente tutto e poi ha anche una migliore amica che è estremamente importante per lei angelica che conosce da quando era piccola dato che le loro mamme sono colleghe nei suoi diari elisa scrive della sua gratitudine verso la vita di quanto sia letteralmente felice di vivere i clubs abitano in una piccola casa a poca distanza dal centro di potenza e prima di addentrarci a pieno nella storia voglio dirvi due cose a proposito di questa città città che comunque avrà un ruolo in questa vicenda potenza è il capoluogo della basilicata ed è una cittadina non grandissima di circa 70 mila abitanti c'è chi l'ha soprannominata la città verticale data la sua conformazione fatta di enormi salite e discese alcuni infatti la chiamano anche la città delle cento scale proprio per questo motivo ma oggi oltre alle lunghe scalinate di cemento c'è anche un'imponente rete di scale mobili che detiene pensate il primato europeo per il sistema di trasporto pubblico più grande cioè invece che farti la sfacchinata facendoti le salite discese le scale a piedi sali sulle scale mobili e vai e questa cosa mi ha fatto sorridere perché a hong kong funzionava esattamente così potenza però anche un altro soprannome che non ha niente a che fare con le salite o con le scale sono in molti infatti a chiamarla potenza la città dell'apparenza come per dire che potenza è una città che vuole dare l'impressione di essere una città tranquilla in cui non succede mai niente ma in realtà non è proprio così le cose brutte succedono ma non se ne parla per non rovinare quell'apparenza e per quanto ogni città abbia la sua nomea la storia di oggi amici ci fa pensare che quella di potenza non sia proprio una nomea sbagliata comunque tornando alla storia è il 12 settembre del 1993 una domenica elisa ha 16 anni quel giorno la famiglia clubs ha in programma un pranzo nella loro casa di campagna fuori potenza i genitori di elisa filomena e antonio si svegliano presto e insieme a uno dei fratelli di elisa luciano vanno in campagna mentre invece elisa e l'altro suo fratello gildo li avrebbero raggiunti più tardi verso l'ora di pranzo con più calma come vi ho detto prima è una domenica e tutte le domeniche elisa va a messa quel giorno ha in programma di andarci insieme ad una sua amica di nome eliana che sarebbe poi andata anche lei a pranzo con loro in campagna quindi elisa si alza si prepara e verso le 11 e 30 esce di casa diretta alla chiesa della santissima trinità una chiesa molto importante della città nonché la più centrale verso le 12 e 30 gildo si trova a casa che aspetta che elisa torni dalla messa quando sente il citofono suonare e ovviamente è sicuro che sia lei ma quando apre la porta davanti si trova solamente la sua amica eliana che gli chiede se elisa fosse lì al che gildo la guarda e le dice no scusa ma elisa dovrebbe essere con te eliana allora gli dice di non preoccuparsi che si erano insieme ma poi all'uscita dalla chiesa c'era troppa gente per strada e si sono perse ma appunto gli dice di stare tranquillo e che sarebbe andata a cercarla a gildo questa storia non convince anche perché il centro di potenza è un buco e secondo lui è praticamente impossibile perdersi di vista infatti dopo un po' quando neanche eliana riesce a trovare elisa e luna è già passata da un pezzo eliana confessa ha mentito lei ed elisa non sono andate a messa insieme la verità è che elisa aveva un appuntamento con un ragazzo si sarebbero dovute incontrare poi dopo questo appuntamento in piazza alle 12 e 30 ma elisa non si è mai presentata e ora lei non sa dove sia gildo le chiede subito con chi avesse appuntamento elisa chi fosse questo ragazzo al che eliana gli risponde con danilo restivo a gildo quel punto si ferma al cuore e alla certezza che questo danilo restivo abbia fatto del male a sua sorella e qui amici necessariamente dobbiamo fermarci un secondo e parlare un po di questa persona chi è danilo restivo restivo nasce il 3 aprile del 1972 a erice un paesino della sicilia sopra trapani ma a metà degli anni 80 lui e tutta la sua famiglia si trasferiscono a potenza perché suo padre maurizio restivo ha ottenuto un lavoro come direttore della biblioteca nazionale della città che sarebbe un incarico prestigioso che gli aveva conferito parecchia importanza gli aveva fatto fare molte conoscenze la madre di danilo si chiama maria fa l'insegnante e oltre lui hanno anche un'altra figlia più piccola di nome anna danilo fin da piccolo risulta subito essere un po strano possiamo dire così diverso dagli altri e ci sono delle testimonianze in merito per esempio alle scuole elementari pare che danilo chiedesse sempre alla maestra di poter andare in bagno ma proprio di continuo finché ad un certo punto la maestra prende un suo compagnetto e gli dice di andare in bagno anche lui a vedere che cosa fa danilo cosa che vabbè cioè ma vai tu cosa mandi un altro bambino comunque amici questo povero compagnetto va in bagno a spiare restivo e lo trova che a sua volta sta spiando le altre bambine mentre vanno in bagno cioè restivo guarda di nascosto le bambine mentre vanno in bagno ma non solo ha anche una lista in cui si annota tutti i nomi delle bambine che riesce a spiare con tanto di commenti e annotazioni probabilmente di che cosa era riuscito a vedere e scrive anche di volersi fidanzare con tutte loro e se questa si potrebbe definire diciamo una stranezza la testimonianza di altri due ragazzini che conoscono restivo fanno emergere un lato di lui decisamente più preoccupante e inquietante la testimonianza è di sonia e di suo cugino angelo brienza che ai tempi hanno lei 12 e lui 11 anni sonia ha appunto 12 anni mentre restivo 14 al tempo di questa storia e vivono abbastanza vicini l'uno dall'altro lei lo descrive come un ragazzino molto isolato con delle grosse difficoltà nel farsi degli amici proprio perché gli altri lo considerano quello strano racconta anche che praticamente quando lei usciva da scuola a volte le capitava di percorrere la stessa strada che percorreva restivo per tornare a casa e tutte le volte che lui la vedeva da sola si avvicinava e cercava di convincerla a seguirlo cioè di andare con lui in un posto segreto in cui le voleva mostrare qualcosa qualcosa di segreto o forse il segreto era proprio questo posto in cui voleva portarla comunque è sempre molto insistente ma sonia gli risponde sempre di no cioè che non le interessa un giorno però sonia si lascia incuriosire e gli risponde senti va bene fammi vedere sto posto segreto però non le andava di andarci da sola forse in fondo sonia aveva una voce un sesto senso che le diceva di non fidarsi quindi aveva chiesto a suo cugino angelo al tempo di 11 anni di andare con lei il giorno dopo sonia angelo e danilo restivo si incontrano in un punto ma restivo dice ai due ragazzini che per poter andare in questo posto loro avrebbero dovuto essere legati con i polsi legati e bendati sonia e angelo se lo lasciano fare convinti che fosse un gioco ma sonia che è furba mentre danilo la benda fa una specie di smorfia cioè strizza gli occhi in modo che la benda non la coprisse bene così che lei potesse in qualche modo vedere qualcosa danilo inizia a fare strada e li porta in una specie di container non non troppo lontano da lì una volta entrati dentro questo container sonia attraverso la benda riesce a vedere due sedie una di fianco all'altra che probabilmente restivo aveva già preparato in precedenza restivo fa sedere i due ragazzini su quelle sedie e poi inizia a trafficare a fare qualcosa sonia sempre attraverso la benda cerca di capire che cosa stesse facendo e ad un certo punto lo vede mentre si infila dei guanti di gomma tipo quelli per lavare i piatti e all'improvviso aveva preso un coltello aveva tirato indietro la testa del piccolo angelo e gli aveva premuto il coltello alla gola sonia appena aveva visto tutto questo di scatto si era alzata e si era scaraventata contro restivo che subito aveva buttato il coltello e era scappato via chiudendo la porta del container quindi chiudendo i due ragazzini all'interno senza che potessero uscire sonia e angelo avevano iniziato ad urlare di aprire la porta e poco dopo restivo era tornato gli aveva aperto e li aveva liberati togliendogli la benda e slegandogli i polsi angelo era ferito era ferito al collo dove restivo gli aveva premuto il coltello e gli usciva parecchio sangue sonia quindi lo aveva preso per mano e i due avevano iniziato a correre verso casa terrorizzati e in tutto ciò restivo gli aveva rincorsi per tutto il tempo urlandogli di fermarsi di aspettare e di non dirlo a nessuno arrivati a casa angelo viene portato all'ospedale dai suoi familiari e i medici gli dicono che se la ferita fosse stata di solo pochi millimetri più profonda lui avrebbe rischiato seriamente la vita e pensate che per ben 20 giorni ha potuto nutrirsi solamente di liquidi chiaramente i medici vogliono sapere che cosa sia successo perché era chiaro che quella ferita non era frutto di un incidente così viene fuori il nome di danilo restivo e come da prassi parte una denuncia contro di lui pochi giorni dopo però a casa della famiglia di angelo si presenta il padre di danilo il signor maurizio disperato che addirittura piangeva e diceva loro di essere disposto a fare qualsiasi cosa e a pagare qualsiasi cifra pur di proteggere suo figlio danilo e gli offre un milione delle vecchie lire per far ritirare la denuncia contro di lui la famiglia di angelo si trovava in forti difficoltà economiche e diciamo che si lascia convincere dalle parole di maurizio che tra l'altro aveva fatto leva sul loro senso di colpa gli aveva detto che suo figlio danilo necessitava di cure e che un procedimento legale gli avrebbe solo rovinato la vita gli chiede comprensione e gli promette che si sarebbe preso cura di suo figlio e che gli avrebbe fatto ricevere le cure necessarie e ricordiamo sempre che maurizio è una persona importante in città una figura autorevole cioè non è uno scappato di casa qualsiasi è una persona di cui la gente tendeva a fidarsi la famiglia di angelo quindi accetta il compromesso accetta i soldi e ritira la denuncia contro danilo restivo ma maurizio non farà mai aiutare danilo da dei professionisti il suo modo di aiutarlo era quello di coprire tutti i suoi guai facendo insabbiare tutto nascondendo tutto e fingendo che col passare del tempo tutto si sarebbe risolto da solo cosa che inutile dirvelo perché se guardate i miei video lo sapete già non è altro che la ricetta perfetta per un disastro il tempo passa danilo cresce ma in qualsiasi ambito della sua vita si trova in difficoltà non riesce mai ad integrarsi a scuola va male viene bocciato al liceo scientifico quindi cambia e si iscrive all'istituto tecnico commerciale ma anche lì gli va male quindi il padre lo iscrive ad un istituto odontotecnico a pagamento in cui finalmente riesce ad ottenere il diploma delle scuole superiori a 18 anni fa la visita militare ma non la supera perché secondo loro mostra tratti di immaturità nello specifico faceva la pipì a letto arriviamo così a qualche mese dalla scomparsa di elisa claps danilo a questo punto ha 21 anni e i suoi tratti ossessivi nei confronti delle ragazze nel tempo non hanno fatto altro che peggiorare si fissa infatti con tre ragazze delle studentesse fuorisede che vivono nel palazzo di fronte quello di danilo e che lui può vedere e spiare dalla sua finestra ma dopo qualche tempo a danilo non basta più solamente guardarle dalla finestra deve fare qualcosa di più è come se ogni volta dovesse alzare l'asticella sempre un po di più trova quindi il loro numero di telefono di casa e inizia a telefonargli a qualsiasi ora del giorno ma soprattutto della notte quando rispondono dall'altro capo del telefono lui spesso respira affannosamente a volte descrive il modo in cui sono vestite per far capire che le stava osservando altre volte invece quando le ragazze rispondono al telefono lui gli fa sentire la melodia per elisa di beethoven peggio di un film horror insomma ma non finisce qui restivo inizia anche a mandargli lettere con sopra racconti o disegni pornografici o addirittura pacchi con dentro regali più o meno inquietanti come per esempio una volta in cui dentro ad uno di questi pacchi c'era un timer con dei fili e la scritta boom quanto tempo ti resta giovanna giovanna ovviamente era il nome di una di queste ragazze e chissà che quella melodia che faceva sentire queste ragazze non fosse un presagio o un indizio di qualcosa che era già fisso nella sua testa per elisa elisa claps probabilmente dato che a quanto pare proprio in quello stesso periodo era già una delle sue più grandi fissazioni danilo probabilmente era già ossessionato con elisa perché in quegli stessi mesi aveva iniziato ad importunarla sempre più spesso la fermava tutte le volte che la incontrava per strada probabilmente la seguiva le telefonava le chiedeva sempre di uscire insieme a lui e è così tanto insistente che elisa ne scrive persino sul suo diario scrive che a volte si sente costretta a passare del tempo con lui per farlo smettere di insistere anche se non ne ha nessuna voglia in realtà perché a elisa danilo non piace la infastidisce ma allo stesso tempo le dispiace perché sa quanto sia solo e quanto venga preso in giro dagli altri ragazzi in un'occasione danilo restivo aveva importunato elisa mentre era insieme a suo fratello gildo l'estate prima della sparizione di elisa si trovavano sul lungomare di monte giordano a circa due ore da potenza quando ad un certo punto danilo restivo si era avvicinato ad elisa dicendole va ciao cosa ci fai anche tu qui e subito le aveva chiesto di andare insieme a lui a fare una passeggiata al che elisa che era a braccetto con suo fratello gildo gli aveva stretto il braccio come per fargli capire non lasciarmi andare con lui e gli aveva risposto in modo secco no grazie non voglio venire ma danilo aveva insistito addirittura l'aveva presa per il braccio l'aveva tirata dicendole ma dai vieni dai andiamo al che gildo era intervenuto e gli aveva detto di smetterla era chiaro che elisa non fosse interessata restivo dopo averlo fissato per un paio di secondi era andato via ma a gildo era rimasto impresso perché non aveva mai visto elisa così per questo tornando a noi alla nostra storia al 12 settembre del 1993 e alla scomparsa di elisa quando l'amica di elisa eliana aveva confessato a gildo che quella mattina elisa invece di andare a messa aveva avuto un appuntamento proprio con danilo restivo lui ha subito una sensazione orribile chiede a eliana com'era possibile che elisa fosse uscita con lui dato che lui lo sapeva bene a lei danilo proprio non piaceva eliana allora gli dice che restivo le aveva telefonato il giorno prima e come al solito aveva insistito voleva vederla ma solo per darle un regalo questa era stata la sua scusa voleva darle un regalo e basta e elisa aveva accettato pensando che così l'avrebbe lasciata in pace gildo telefona immediatamente a casa restivo ma a rispondere è il signor maurizio che subito non vuole passargli suo figlio dice a gildo e no danilo sta pranzando non può venire al telefono gildo chiaramente insiste e gli dice no passamelo pure dato che mia sorella si è vista con lui e poi non è più tornata a casa maurizio allora passa il telefono a danilo che risponde che sì aveva visto elisa erano andati in chiesa insieme e poi lei se n'era andata invece lui era rimasto un altro poi in chiesa a pregare e aggiunge anche che quando elisa era arrivata in chiesa all'appuntamento era molto scossa e gli aveva detto di essere stata importunata da qualcuno prima di arrivare lì a quel punto però il signor maurizio gli toglie il telefono dalle mani saluta frettolosamente gildo e mette a quel punto tutto il resto della famiglia claps che è stata avvisata della scomparsa di elisa torna dalla casa in campagna e luciano l'altro fratello di elisa decide di andare direttamente a casa di danilo restivo per parlarci subito al citofono risponde di nuovo il padre maurizio che si rifiuta di far scendere il figlio ma luciano minaccia di sfondargli il portone quindi danilo scende e a detta di luciano era completamente sudato molto agitato e nervoso che balbettava ripetendo anche a lui le cose che aveva già detto a gildo ma dopo solo pochi minuti dal citofono il signor maurizio aveva iniziato ad urlare a suo figlio di salire a casa immediatamente gildo e luciano allora decidono di andare alla chiesa della santissima trinità luogo in cui a quanto pare elisa si era incontrata con danilo e ultimo posto in cui era stata vista ma quando arrivano lì non trovano nulla dietro l'altare però c'è una porta che portava i piani superiori della chiesa gildo chiede di farsela aprire ma gli rispondono di no perché il prete che aveva le chiavi don domenico leonardo sappia detto don mimì di cui parleremo più tardi era andato via velocemente subito dopo la messa era andato alle terme e appunto le chiavi le aveva lui a quel punto gildo insieme a tutta la famiglia claps si dirige alle autorità per denunciare la scomparsa di elisa e tutti ovviamente fanno il nome di danilo restivo perché a quel punto sono tutti sicuri che lui sia coinvolto le autorità purtroppo però non prendono seriamente la scomparsa della ragazza e danno per scontato per qualche motivo che si tratti di un allontanamento volontario ma il giorno dopo la prima persona da cui si recano per sentire che cosa avesse da dire è proprio danilo restivo in casa però non lo trovano trovano come sempre il signor maurizio che gli comunica che suo figlio non c'era era andato fuori potenza per sostenere un test di odontoiatria al policlinico di napoli e sarebbe tornato il giorno dopo tutto però è già molto strano considerando che non c'è traccia da nessuna parte che restivo abbia effettivamente sostenuto quell'esame le autorità comunque decidono di andare il giorno dopo ad aspettarlo al suo ritorno alla stazione dei pullman di potenza ma guarda un po danilo sul pullman da appunto napoli a potenza non c'è e volete sapere il perché a quanto pare suo padre maurizio insieme al suo avvocato avevano fatto fermare il pullman in corsa e avevano detto a danilo di scendere alla fermata prima perché sapevano che alla stazione di potenza ci sarebbero state le autorità ad aspettarlo no comment ma per non risultare completamente colpevole maurizio e l'avvocato insieme a danilo si recano in questura spontaneamente lo stesso giorno per rilasciare delle dichiarazioni appunto spontanee durante queste dichiarazioni però danilo si contraddice continuamente e mentre parla agli inquirenti notano un brutto taglio sul dorso della sua mano sinistra e ovviamente gli chiedono come se lo fosse fatto sono inciampato con il piede sinistro su un mattone che ci stava inizialmente ho fatto tre ho perso l'equilibrio ma non sono caduto subito ho fatto due o tre gradini con il il piede destro due tre gradini col piede sinistro altri due o tre gradini col piede destro e poi ho preso malamente sono scivolato perché era anche bagnato e sono caduto mi sono trovato con la testa praticamente nel pianerotto e il resto del corpo ancora nelle scale lui racconta che dopo la messa mentre tornava a casa dopo la scomparsa di elisa aveva deciso di fare una deviazione e di infilarsi nel cantiere di una delle scale mobili di cui vi parlavo all'inizio del video perché era curioso racconta che mentre si trovava lì era inciampato ed era caduto per tutta una rampa di scale e cadendo un pezzo di metallo si era piantato nella sua mano tra il pollice e l'indice e gli era uscito tanto sangue sangue che si era tamponato con la sua giacca questa sua storia che comunque poi cambierà svariate volte non ha nessun senso prima di tutto perché una volta recati lì sul luogo le autorità non trovano né tracce di sangue né pezzi di metallo o lamiera insomma quello di cui lui parlava inoltre comunque la dinamica della caduta che restivo descrive non è assolutamente compatibile con la ferita che lui aveva riportato scoprono oltretutto che quella mattina la mattina in cui si era tagliato la mano era stato anche portato in ospedale dalla sorella anna che lo aveva visto arrivare a casa tutto pieno di sangue e anche il medico che era in ospedale gli aveva gli aveva dato un punto di sutura e aveva determinato persino lui che quella fosse una ferita da taglio e non frutto di una caduta dalle scale a e ovviamente nessuno lo aveva visto cadere dalle scale nessuno lo aveva visto in quel cantiere nessuno lo aveva visto in generale dalla scomparsa di elisa alle 11 30 alle 13 quando era tornato a casa secondo la sorella anna quel giorno al suo rientro a casa comunque danilo non aveva solo la giacca sporca di sangue ma anche la camicia e i jeans gli inquirenti quindi chiedono alla famiglia restivo di poter avere quei vestiti per poterli esaminare anche perché da quello che dicono si stava parlando di un po troppo sangue per un tagliettino su una mano ma indovinate questa cosa non è possibile i vestiti sono già stati tutti lavati e comunque il signor maurizio si rifiuta di darglieli sotto consiglio del suo avvocato assurdo no infatti l'ispettore che si trova lì in quel momento a casa restivo con i vestiti di restivo stesi in balcone davanti ai suoi occhi insiste per averli cioè li vuole comunque e fa quindi un giro di telefonate dato che maurizio non glieli vuole dare e telefona al magistrato che gestiva le indagini della scomparsa di elisa clapps quindi il capo delle indagini una certa felicia genovese che inaspettatamente nega all'ispettore il mandato di sequestro di quei vestiti avete sentito bene amici ma ricapitoliamo un attimo la situazione ok elisa clapps è scomparsa c'era un ragazzo che effettivamente la importunava insistentemente già da mesi ovvero danilo restivo lo stesso danilo restivo che aveva cercato di accoltellare un bambino di 11 anni a 14 anni ma va bene chi è l'ultima persona ad aver visto elisa clapps prima di scomparire danilo restivo cosa dice danilo restivo di quella mattinata cose sconnesse che si contraddicono l'una con l'altra ok ma lo stesso danilo restivo subito dopo la scomparsa di elisa praticamente scompare anche lui per un'ora e mezzo nessuno in quel tempo lo ha visto fino a quando non era tornato a casa completamente sporco di sangue e con una ferita da taglio alla mano e nonostante tutto questo non è sospettato ma soprattutto il magistrato capo delle indagini nega il sequestro dei vestiti insanguinati in che senso quindi amici nulla il tempo passa e arriviamo al 5 ottobre 1993 e al programma chi l'ha visto stanno parlando della scomparsa di elisa e di danilo restivo come possibile sospettato arriva durante il programma in diretta una telefonata da parte di una signora che dice di conoscere molto bene danilo e racconta di una sua ennesima stranezza danilo restivo aveva un feticcio per i capelli delle donne secondo questa donna danilo tagliava di nascosto i capelli alle donne per strada e alcune di queste ciocche addirittura le teneva incorniciate in camera sua alcuni a potenza infatti lo avevano persino soprannominato il parrucchiere era quindi una cosa abbastanza risaputa in città da lì arrivano parecchie testimonianze di donne a cui nel tempo danilo aveva tagliato di nascosto ciocche di capelli a molte di loro era successo sull'autobus e l'iter era sempre lo stesso danilo saliva sull'autobus preferibilmente quando era strapieno di gente si metteva dietro la sua preda una donna con i capelli categoricamente lunghi e poi tirava fuori un paio di forbici e le tagliava una ciocca dopodiché tutte le volte scendendo dall'autobus iniziava a fissarle sorridendo fino a che l'autobus non ripartiva abbiamo quindi un profilo sempre più completo di questo danilo restivo è un ragazzo un uomo disturbato con tratti ossessivi che mette in atto con comportamenti feticisti e ritualistici cioè è seriale deve fare e rifare e rifare le cose con cui si ossessiona e a proposito del suo feticcio il feticismo amici si annovera tra le parafilie o perversioni sexuali e consiste nel concentrare il desiderio erotico su una cosa specifica una parte del corpo come per esempio nel caso di restivo i capelli delle donne oltre questo ha un grosso problema con le donne ha un rapporto distorto con loro infatti il suo approccio con le donne è strano diciamo così è insistente è inquietante ti manda pacchi finti con dentro delle finte bombe a casa e ti fa sentire per elisa al telefono alle tre del mattino e il suo comunque non è neanche un comportamento innocente anzi è aggressivo anche se nessuno sembra rendersene conto tutti lo trattano come se fosse lo scemo del villaggio quello strano che però non farebbe mai del male a nessuno mentre nel frattempo lui per gioco ricordiamo ha quasi tagliato la gola di un bambino danilo restivo è insomma una vera e propria mina vagante pronta ad esplodere però insospettabile per me è normale stare da solo per le persone può sembrare bizzarro per me è normale stare passeggiare da solo mi dà anche il tempo per riflettere danilo restivo è un killer mascherato da scemo del villaggio un po non so mi ricorda quelle mine anti uomo che in guerra vengono nascoste dentro ai giocattoli per bambini insospettabili ma letali ma nonostante tutto ciò e nonostante tra l'altro il programma chi la ha visto calchi molto la mano sul fatto che restivo abbia ucciso elisa cioè federica sciarelli parla direttamente di omitidio e occultamento di cadavere perché è sicura che sia così e questo ha sicuramente influenzato l'opinione pubblica nel pensarla allo stesso modo quindi nonostante la fortissima convinzione di tutti che restivo sia colpevole di aver ucciso elisa le autorità così come anche il capo delle indagini felicia genovese continuano a parlare di allontanamento volontario elisa secondo loro sarebbe scappata di casa la famiglia claps è distrutta dal dolore e dalla frustrazione ma nonostante questo non smettono mai di lottare specialmente filomena la mamma di elisa che nonostante sia una donna molto minuta all'apparenza ha una forza incredibile e riesce nonostante tutto a tenere insieme la famiglia antonio invece il papà di elisa ha serie difficoltà nell'elaborare la perdita e nell'elaborare tutto quel dolore elisa con lui aveva sempre avuto un rapporto speciale ve l'ho detto lei era la sua bambina e da questa sofferenza lui infatti non si riprenderà mai più antonio non prova più gioia in niente si isola completamente nel suo dolore che lo valida completamente impedendogli anche di lottare per scoprire la verità cioè antonio sa che non rivedrà mai più la sua elisa e questa è l'unica verità che conta per lui il resto non gli interessa la famiglia claps è costretta a guardare mentre un'ingiustizia dopo l'altra passa davanti ai loro occhi come per esempio quando nel 7 marzo del 1995 danilo restivo viene accusato per false dichiarazioni al pm quindi viene accusato di aver mentito nelle sue dichiarazioni riguardo la scomparsa di elisa perché appunto aveva mentito sul motivo dell'incontro con elisa sulla ferita alla mano e su tante altre cose ma viene condannato solamente a due anni e otto mesi condanna che comunque lui sconta facendo lavori socialmente utili alla trinità ho incontrato elisa elisa era da sola e mi ha invitato ad entrare nella chiesa entrato nella chiesa io ho superato elisa e perché dovevo parlarle e superata elisa l'ho portata dietro l'altare questo non so se è il nome la canonica comunque dietro l'altare dove ci sta all'organo io mi mi sono seduto ricordati mi sono seduto allora ha preso la la tenda sinistra sono andato nella tenda a sinistra mi sono seduto qua stavo io e qua stava elisa di fronte a me ci stava la tenda l'organo l'altra tenda e l'ufficio del parroco nello stesso anno tra l'altro restivo deve affrontare un altro processo quello per stalking alle ragazze le studentesse quelle che vivevano nel palazzo di fronte al suo vi ricordate quelle a cui telefonava nel cuore della notte processo che comunque si conclude solamente con una multa a danilo di 500 euro comunque le indagini procedono diciamo così perché in realtà non procedono per niente e forse c'è un motivo che spiegherebbe il perché non procedano per niente nel 1999 infatti succede una cosa un mafioso collegato all'andrangheta di nome gennaio capiello si pente e inizia a collaborare con la giustizia diventando appunto un collaboratore di giustizia e nelle sue numerose dichiarazioni parla anche del caso elisa claps anzi nello specifico parla della pm felicia genovese ve la ricordate il capo delle indagini che non aveva voluto far sequestrare i vestiti insanguinati di restivo questo collaboratore di giustizia racconta che il padre di danilo il signor maurizio restivo avrebbe offerto 100 milioni di vecchie lire al marito di felicia genovese con cui lui aveva dei contatti affinché influenzasse sua moglie la genovese per influire sulle indagini su danilo cioè per fare in modo che danilo non risultasse troppo colpevole insomma e questo spiegherebbe molte cose spiegherebbe il perché la genovese non abbia voluto far sequestrare i vestiti spiegherebbe il perché di tutta una serie di buchi nelle indagini e il perché nonostante fosse chiaro il coinvolgimento di restivo questa cosa dalle indagini non emergesse mai e infine spiegherebbe anche il perché restivo se la sia cavata con quella condanna ridicola ma ovviamente felicia genovese nega con forza le accuse di corruzione da parte del collaboratore di giustizia e anzi lo denuncia per diffamazione queste accuse comunque vengono giudicate infondate ma perlomeno il fascicolo delle indagini del caso elisa claps viene spostato da potenza a salerno c'è quindi una nuova squadra investigativa e anche un nuovo capo delle indagini quindi non è più felicia genovese ma un'altra donna di nome barbara strappato la cosa positiva è che adesso forse finalmente sarebbe stato utilizzato un nuovo approccio al caso la cosa negativa è che le indagini dovevano ricominciare da zero una delle prime cose che fanno che non avevano mai fatto prima è di perquisire casa dei restivo e nella camera di danilo trovano delle cose molto interessanti trovano per esempio una scatoletta una scatola piena di foto foto di danilo in compagnia di altre donne tutte completamente nude e tutte con evidenti malformazioni fisiche che lui danilo giustifica dicendo che fossero tutte sue ex fidanzate e all'interno di un'agenda di danilo trovano un bigliettino scritto a mano sempre da lui con il nome licia genovese e a fianco il suo numero di cellulare ora amici spiegatemi in quale mondo il sospettato l'indagato ha il numero di telefono del capo delle indagini che sta svolgendo contro di lui oltretutto il soprannome licia suggerisce una certa confidenza questo certo ci fa riflettere sulle dichiarazioni di quel collaboratore di giustizia no vabbè amici andiamo avanti perché tanto a questa cosa come purtroppo a tante altre in questo caso ancora oggi non c'è una risposta chiara quindi passiamo oltre un'altra cosa che viene fatta nel corso di queste nuove indagini e che stranamente non era mai stata fatta prima è andare a perquisire la chiesa della santissima trinità ovvero l'ultimo posto in cui elisa era stata insieme a danilo restivo l'ultimo posto in cui era stata vista se ci pensate è solo assurdo che nessuno sia andato a controllare lì prima nessuno a parte la famiglia di elisa ve lo ricordate ma avevano trovato solo porte in faccia vi ricordate che don mimì era andato alle terme quindi non poteva aprirgli insomma vabbè erano andati anche altre volte ma tutte le volte nessuno gli aveva mai permesso di entrare le autorità quindi ottengono un decreto di ispezione solo per il locale caldaie della chiesa ma quando arrivano lì don mimì apre la porta tipo di un pezzettino e gli dice ispezione no no grazie non potete entrare ciao e richiude la porta dovete sapere amici che questo don mimì era il sacerdote della chiesa ed era una figura molto importante che aveva conoscenze e contatti con tutte le figure potenti della città un po come maurizio restivo don mimì è sempre stato molto sfuggente rispetto questa storia anche come vi dicevo prima con la famiglia di elisa a cui quando erano andati lì a chiedergli spiegazioni aveva risposto non conosco danilo e non conoscevo elisa aveva parlato al passato solo di elisa come se sapesse già che non ci fosse più oltretutto amici comunque spoiler questa sua affermazione era falsa perché durante la perquisizione a casa di restivo tra le cose avevano trovato anche delle foto del diciottesimo compleanno di danilo e tra gli invitati alla sua festa c'era proprio don mimì tra gli invitati del suo diciottesimo e oltre questo vi ricordate quando maurizio restivo era andato a casa della famiglia del bambino che danilo aveva quasi accoltellato chiedendogli di ritirare la denuncia ebbene ad accompagnarlo quel giorno c'era don mimì quindi presumo lo conoscesse danilo e anche bene ma comunque ora don mimì era sfuggente anche con le autorità e gli impediva di entrare a ispezionare la chiesa persino con un mandato cos'ha da nascondere don mimì lo scopriremo amici comunque alla fine le autorità erano riuscite a perquisire questo locale caldaie ma purtroppo non ci avevano trovato nulla gli anni comunque passano e dopo aver scontato la sua condanna per false dichiarazioni danilo si allontana da potenza e va a vivere in diverse altre città ma non importa dove vada danilo si mette sempre nei guai continua con la sua ossessione nel tagliare i capelli alle donne addirittura in un'occasione offre dell'urina da bere a delle ragazze senza dirgli che sia urina ovviamente mentre ad altre chiede di togliersi le scarpe insomma chiaramente non riesce a contenere la sua natura spesso comunque torna a potenza dai suoi genitori ma quando è lì cerca di mantenere un profilo basso nel frattempo arriva una strana mail sul sito che gildo aveva creato per raccogliere le segnalazioni su sua sorella e questa mail era da parte di elisa o perlomeno così c'era scritto nella mail c'era scritto che elisa in realtà si era allontanata volontariamente era scappata di casa e in quel momento si trovava in brasile e non voleva essere trovata quindi chiedeva di non cercarla gildo è certo che quella mail sia falsa e infatti risale all'indirizzo ip di questa mail e scopre che era stata inviata da un internet point di potenza e quando si reca all'internet point e controlla il registro dei clienti di chi aveva usato i computer il giorno in cui era stata inviata la mail indovinate che nome ci trova sopra quello di danilo restivo era stato lui a mandarla nonostante questo però nessuno gli dice nulla ora amici dobbiamo fare un salto in avanti arrivando così al 12 novembre del 2002 e dobbiamo anche spostarci momentaneamente all'estero ci troviamo adesso in inghilterra in una cittadina che si chiama barmouth ether barnett è una donna di 48 anni che vive qui con i suoi due figli terry di 14 anni e caitlin di 11 heather lavora da casa come sarta ma il 12 novembre 2002 quando i suoi figli tornano da scuola inaspettatamente entrando in casa non trovano la loro madre ad aspettarli e questo è molto strano perché tutti i giorni a quell'ora circa le 16 e 30 heather era sempre lì ad aspettare che tornassero la figlia minore caitlin inizia quindi a cercarla in giro per la casa ma senza successo finché l'unica stanza rimasta da controllare è quella del bagno a quel punto però la ragazzina ha una bruttissima sensazione e chiede a suo fratello di controllare il bagno insieme a lei perché qualcosa le diceva che la loro mamma si trovasse lì dentro terry e caitlin allora aprono insieme la porta del bagno e all'interno ci trovano il corpo della loro mamma heather senza vita sul pavimento sdraiata in una pozza del suo stesso sangue mentre i due ragazzini sono fuori casa che aspettano le autorità in preda allo shock e al panico attirano l'attenzione della coppia di vicini di casa che abita di fronte a loro tra l'altro la chiamata al numero di emergenza è assolutamente straziante amici perché terry continua a dire all'operatrice che sua mamma è stata uccisa e che quello non era uno scherzo e di sottofondo si sente la sua sorellina che strilla e sconvolta e piange al che l'operatrice gli chiede è tua madre quella che sento in sottofondo e terry comprensibilmente frustrato risponde no quella è mia sorella mia mamma è morta mia mamma è stato morta, non è una gioco mia mamma è morta? è? 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 è che tua mamma che posso sentire nel background? no, è mia mia moglie è? è? quindi dove è la mia mamma? è? 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 e amici io so che vi starete chiedendo ma perché ci stai parlando di un altro caso di true crime dentro al caso di elisa claps ebbene amici ve ne sto parlando perché i vicini di casa che aiutano i figli di heather barnett sono una coppia di italiani un uomo e una donna la donna si chiama fiamma marsango e l'uomo altri non è che danilo restivo amici la prima parte di questa storia direi che può finire qui perché da qui in avanti le cose si complicano non poco e un po non voglio confondervi e un po voglio riuscire a scrivere la seconda parte con tutto il tempo che ci vuole prima di salutarvi però voglio anticiparvi una cosa ho chiesto a pablo trincia come potevo essere utile alla famiglia claps se per caso avevano delle raccolte fondi in corso o raccolte firme e lui mi ha anticipato un progetto che stanno avviando di cui però ancora non ci sono tutti i dettagli quindi io per ora ve lo anticipo e appena sarà tutto più chiaro vi aggiornerò come vi ho raccontato all'inizio del video il sogno di elisa era quello di laurearsi in medicina per poter andare in africa con i medici senza frontiere ebbene la famiglia claps si sta attivando per far aprire un ambulatorio medico in africa in nome di elisa penso sia una cosa veramente stupenda e molto nobile ripeto per ora non sono ancora noti i dettagli quando lo saranno ve lo comunicherò così se ci sarà un modo in cui potete contribuire so che vi fa piacere farlo io sicuramente lo farò per il video di oggi comunque amici è tutto il prossimo lunedì troverete la seconda parte sul canale e io come sempre vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video ciao